Geograficamente per area balcanica o per Balcani si intende quella regione d'Europa che va dal mare Adriatico fino al Mar Nero, ma per consuetudine in tutti i libri di geografia si intende la regione dei Balcani quella affacciata sul mare Adriatico, che comprende i paesi di Slovenia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia e Albania. Cosa possiamo dire di questi territori per cercare dei punti in comuni? Beh, è molto difficile trovare dei punti in comuni in questi territori, sia dal punto di vista fisico, vedete che nella parte settentrionale troviamo più verde, troviamo le ultime pendici della grande pianura ungherese, mentre nella parte centro-meridionale troviamo un territorio piuttosto montuoso. Bene, questa divisione territoriale ha significato anche divisione etnica, isolamento etnico. Infatti, dal punto di vista della popolazione e della storia, i Balcani rappresentano un puzzle di diverse etnie condizionate da lingue diverse, lingue slave e da religioni diverse, come la religione ortodossa e la religione musulmana, tutti elementi che hanno sancito delle differenze piuttosto che delle similitudini tra queste popolazioni, fino al punto che con la dissoluzione della Jugoslavia, avvenuta nel 1991, e quindi con la fine dell'influenza della politica sovietica su quest'area, c'è stata la disgregazione di questi paesi. Ognuno di questi paesi ha cercato di trovare l'indipendenza e di affermare la propria identità. E così c'è stata una sanguinosa guerra tra il 1991 e il 1995, che ha coinvolto gran parte di questi territori. Questi territori che sono stati sempre sotto dominazioni diverse, a partire dalla dominazione dell'impero romano d'Oriente, poi a partire dal XV secolo invece troviamo la dominazione turco-ottomana, successivamente, dopo la prima guerra mondiale, si forma la Jugoslavia, con l'influenza della politica sovietica, che riesce a tenere insieme questi diversi paesi, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica c'è stato lo scontro etnico che ha dato origine alla guerra del 1991-1995. Questo ha sancito una difficile convivenza tra questi territori, dove si professano tre diverse religioni, cattolica, ortodossa e islamica, e in conseguenza del coinvolgimento dei diversi paesi nella guerra, c'è stato anche un differente sviluppo economico e progresso tecnologico. Ma andiamo a vedere nello specifico diversi paesi per capire meglio di cosa parliamo. Partiamo dalla Slovenia. La Slovenia confina nord con l'Austria, a est con Croazia e Ungheria, a ovest con l'Italia e il mare Adriatico, mentre a sud confina con la Croazia. Vedete che ha una superficie piuttosto limitata, poco più di 20.000 km2, immaginate che l'Italia è 300.000 km2, con una popolazione che si agita attorno ai 2 milioni di abitanti. La capitale è Ljubljana, è una repubblica parlamentare. Vedete, in questo paese abbiamo una maggioranza cattolica e delle piccole percentuali di musulmani e ortodossi. La lingua è una lingua di origine slava, lo sloveno, mentre la Slovenia ha adottato l'euro, l'unico paese di quest'area che è riuscito ad avere i requisiti necessari per partecipare all'Unione Monetaria Europea. Dal punto di vista del territorio troviamo a nord-ovest le Alpi Giulie che segnano il confine con l'Austria e le Alpi Caravaniche che segnano il confine con l'Austria e con l'Italia. I corsi d'acqua principali sono la Drava e la Sava. Nella parte centrale del centro-occidentale del paese troviamo il vasto altopiano del Carso, formato da rocce calcare, che da origine ha delle grotte sotterranee chiamate Doline, di cui la più suggestiva è quella che vedete qui in questa immagine, la grotta di Postumia. Le Alpi Caravaniche digradano verso Oriente fino ad inquadrare un pezzettino pianeggiante al confine tra Ungheria e Croazia che è l'ultimo lembo della grande pianura ungherese. Dal punto di vista della popolazione gli sloveni hanno abitato per lungo tempo la regione settenzionale della penisola balcanica senza mescolarsi agli altri gruppi etnici. Questo ha permesso alla Slovenia di non essere coinvolta direttamente nella guerra civile di Jugoslava. Nel 1991 ha dichiarato direttamente l'indipendenza dando vita a uno stato piuttosto omogeneo accettando quindi le minoranze religiose e le minoranze etniche. Ricordiamo che tra la popolazione slovena ci sono anche delle minoranze italiane e delle minoranze ungheresi. La religione più diffusa, abbiamo detto, è quella cattolica, anche se il 10% della popolazione è ateo cioè dichiara di non credere in nessuna religione. La diffusione della popolazione in Slovenia è piuttosto omogenea e più elevata nelle campagne. Infatti la Slovenia, tra i paesi dell'Unione Europea, è quella con la minor percentuale di urbanizzazione. cioè la popolazione vive piuttosto nelle campagne. L'età media della Slovenia è di quasi 44 anni, quindi abbastanza alta, e si attesta con una crescita demografica negativa, meno 0,2%. Infatti il tasso di fertilità, cioè figli per donna, sono di appena 1,3%. Se solo un decimo del territorio è coltivabile, tuttavia l'agricoltura slovena è molto produttiva. Si coltivano frutte, cereali, barbabietole da zucchero, patate e uva. Molto redditizio lo sfruttamento del legname e dei pascoli, con un allevamento bovino e suino che avviene secondo le regole della ecosostenibilità, cioè in regime biologico. Il fabbisogno energetico della Slovenia è in gran parte soddisfatto dalle centrali idroelettriche e dalle importazioni di gas, ma il 45% dell'energia elettrica prodotta in Slovenia deriva dalla centrale nucleare di Krishko, una centrale nucleare di epoca sovietica, vecchia e poco sicura e purtroppo ai confini con l'Italia. Quindi dovesse succedere qualcosa saremmo direttamente coinvolti in questa esplosione. Sono sviluppate le industrie siderurgiche e metallurgiche grazie agli investimenti negli ultimi anni di grandi gruppi austriaci e tedeschi. Si è potuto sviluppare anche il settore chimico-farmaceutico, elettronico e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda il settore terziario, è in crescita il turismo sia legato agli sporti invernali nell'area nord-occidentale e sia legato ai paesaggi, quindi alle grotte sotterranee, ai centri termali e balneari nel piccolo tratto di costa che troviamo sull'Adriatico. Passiamo ora alla Serbia, uno dei paesi più complicati di questa regione. La Serbia, come vedete, è privo di sbocchi a mare. Confina a nord con l'Ungheria, a est con Romania e Bulgaria, a sud con Macedonia e Kosovo, a ovest con Croazia-Moltenegro e Bosnia-Herzegovina. ha una superficie di più di 77 mila chilometri quadrati per un totale di poco più di 7 milioni di abitanti. È una bassa densità di popolazione. È una repubblica parlamentare con capitale Belgrado. La religione predominante è quella ortodossa, con minoranze cattoliche e musulmane. La lingua ufficiale è il serbo, una lingua di origine slava. Come vedete, la Serbia non ha l'euro. Nella parte settentrionale troviamo una vasta pianura alluvionale. È a nord segnata da molti, infatti è segnata da molti fiumi. I più importanti sono la Moravia, il Danubio e i suoi effluenti, Sava, Drava e Tibisco. Nel centro-sud sono presenti i rilievi coperti di foreste e pascoli e troviamo un clima semicontinentale con estate calde e afose ed inverni piuttosto rigidi e nevosi. Per quanto riguarda la Serbia è necessario un accenno alla sua geostoria. Nella permanenza della religione ortodossa in Serbia si evidenzia un forte legame con la dominazione bizantina. Infatti permane anche l'alfabeto cirillico. Anche dopo essere stata dominata per cinque secoli, pensate dai turchi, ma nel 1871 è diventato un regno autonomo, il regno di Serbia, aderendo poi al regno di Jugoslavia successivamente alla Federazione Jugoslava influenzata dalla politica dell'Unione Sovietica. Alla fine della Federazione Jugoslava nel 1991 in Serbia si sono generati i più gravi conflitti etnici. La Serbia, appoggiata dalla Russia, un altro grande paese di origine slave e di religione ortodossa, è stata la protagonista di questo scontro perché la guerra è nata per la separazione dal territorio serbo dello stato del Kosovo a maggioranza musulmana e albanese. Quindi questo diciamo che ha generato la guerra. La Serbia formalmente è una federazione di due repubbliche autonome, la Serbia e la Vojvodna. Dopo la guerra si sono lentamente affermati dei governi democratici che hanno aperto il colloquio per l'ingresso nell'Unione Europea che non è ancora avvenuto. La Serbia, abbiamo detto, conta più di 7 milioni di abitanti con un lento calo della popolazione e il tasso di fertilità è di 1,4 figli per donna e l'etnia, accanto alla maggioranza serba di religione ortodossa e lingua slava, troviamo delle minoranze magiare, montenegrine, albanese e bosniache, rumene e croate. La religione prevalente è quella cristiana ortodossa, le minoranze praticano Islam e cattolicesimo. Cosa possiamo dire dell'economia serba? Ovviamente l'economia serba è stata duramente segnata dalla guerra. Abbiamo al nord soprattutto ampi territori coltivabili in cui il prodotto di spicco è la prugna da cui viene ricavata un famosissimo liquore, una famosissima acquavite, ma si coltivano anche vigne e piante industriali come il tabacco e il girasole. L'allevamento più sviluppato è quello dei suini. La Serbia ha una discreta disponibilità di carbone e di gas naturale che hanno permesso lo sviluppo dell'industria pesante, ma anche industrie automobilistiche per la produzione di macchine agricole. Le industrie tradizionali sono quella tessile del legno, della calzatura e le industrie alimentari. Nel settore terziario l'economia, il settore economico, è stato limitato a lungo per le sanzioni economiche dovute alla partecipazione alla guerra della Serbia. Ma il ritorno alla normalità ha sancito una ripresa del commercio e del turismo. Comunque la Serbia è un paese che sta ancora pagando lo sconto degli anni di guerra, sia per le distruzioni delle attività produttive e sia per il lungo embargo, cioè la sanzione decisa dalla comunità internazionale per fiaccare i tentativi della Serbia di occupare altri paesi. Con questo si conclude la prima parte della regione balcanica.